eh... cotto è? è buono, è due cipolli e poi ti aprivesci e poi ti aprivesci ti vedi il processo che ha fatto il tempo eeeh... ti aprivesci eeeh... ti aprivesci e tu ci aprivesci e poi ti aprivesci e poi i ragazzi se vieni boh... e poi rispondi, te e poi rispondi loro e certo e invece di stare a litigare sui cosi sull'inalino ma c'è il mare pieno di salaceni eeeh... la... ma... ma... questa cosa è super nuova e poi si intende e poi si intende e poi si intende in pittatura ma... ma... ma si comprende che il gusto è di salare sul venuco ha ricordati che il gusto è di salare sul venuco e quindi ci ha il gusto e questo ha il gusto e questo ha il gusto è di salare sul venuco il venuco cosa ci ha detto e c'è di pensare da rasinare sul vino il vino è buono sul vino sul vino mio il vino è buono il vino è buono il vino è buono il vino è buono e ci ha detto che ci ha detto è il mondo è il mondo il mondo è il mondo che è il gruppo di subito il mondo è il mondo Grazie a tutti.